Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRMH 24, martedì è il giorno di Raffaele Fitto al Parlamento europeo. Il ministro per il PNRR ha atteso all'udienza di conferma a Bruxelles un passaggio necessario per rendere esecutivo l'incarico di commissario europeo. Fitto dovrà vincere le resistenze dei socialisti. 19 commissari incaricati hanno già avuto il via libera dal Parlamento europeo. Martedì toccherà Raffaele Fitto. L'attuale ministro per il PNRR del governo Meloni si presenterà davanti ai parlamentari per l'audizione di conferma, un passaggio necessario e previsto dai trattati europei. Gli eurodeputati sin qui hanno approvato le nomine dei commissari semplici. Da martedì inizieranno le votazioni dei vicepresidenti della Commissione, tra cui c'è proprio Fitto. Lo scoglio più grande per il politico pugliese sono le resistenze dei socialisti. Ad Armanforte arriva però l'apertura del Partito Popolare europeo, che non vuole veti incrociati. Nella stessa direzione va il voto dei conservatori di ECR, a cui appartiene anche Fitto, e che dopo essersi opposti alla rielezione di Ursula von der Leyen hanno approvato l'incarico dei commissari. Un messaggio chiaro, il partito dei conservatori non vuole rimanere fuori dai giochi a Bruxelles e in questo modo spera anche di proteggere l'unico suo candidato. Sarà proprio Fitto ad aprire la giornata delle audizioni martedì. Socialisti, liberali e verdi, di tra i principali movimenti politici che sostengono la Commissione von der Leyen insieme ai popolari, ne fanno una questione di coerenza politica. Fitto fa parte infatti di Fratelli d'Italia, che non ha appoggiato la conferma di von der Leyen alla Commissione europea, per cui non può far parte della cerchia dei vicepresidenti. Un concetto ribadito dai socialisti anche in questi giorni. Il pugliese però gode di ampia stima personale in Europa. Martedì dovrà affrontare una sfida politicamente difficile che lo potrebbe portare a essere il primo pugliese alla Commissione europea. Il caso del dipendente dello stabilimento siderurgico Ex Silva di Taranto licenziato per aver condiviso un post Facebook su una fiction che affrontava il tema dell'inquinamento industriale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento avvenuto nell'aprile del 2021. Ma ascoltiamo i dettagli della vicenda nel servizio. Confermata dalla Corte di Cassazione, l'illegittimità del licenziamento avvenuto nell'aprile del 2021 di Riccardo Cristello, il tecnico di controllo costi dello stabilimento siderurgico Ex Silva all'epoca dei fatti Arcelor Mittal, che aveva condiviso su Facebook uno screenshot che invitava alla visione della fiction Svegliati, amore mio, che affrontava il tema delle conseguenze sanitarie e ambientali di un'acciaieria. Una conferma di quanto era stato già deciso nei precedenti gradi di giudizio, dal giudice di lavoro di Taranto e dalla Corte d'Appello di Lecce. Il ricorso del lavoratore aveva dato avvio alla fase sommaria del processo di primo grado, conclusosi poi nel luglio 2021 con la declaratoria di illegittimità del licenziamento e l'ordine di reintegro del dipendente nel suo posto di lavoro, sul presupposto che il post contestato non conteneva nessun riferimento, né diretto o indiretto, al suo attuale datore di lavoro. Arcelor Mittal, nel frattempo divenuta acciaieria d'Italia S.P.A., si era poi opposta all'esito di quell'ordinanza, presentando ricorso e aprendo la fase a cognizione piena del processo. Nuova conferma per il lavoratore con la sentenza del marzo 2022, che dichiarava l'insussistenza delle basi su cui si poggiava il licenziamento. Acciaieria d'Italia S.P.A. aveva quindi proposto il reclamo avverso la sentenza di primo grado, cui fece seguito la decisione della Corte d'Appello che rigettava il reclamo della società. Con la pronuncia della Cassazione, ha dichiarato Francesco Rizzo, dell'esecutivo confederale USB, si mette una pietra tombale sulla tristissima vicenda Cristello, che racconta tanto della gestione ArcelorMittal dello stabilimento siderurgico. Un momento quello che ha visto nella fabbrica la multinazionale franco-indiana, in cui è stato addirittura messo in discussione un diritto fondamentale come quello di esprimere la propria opinione. Nella fiction, Mediaset Sabrina Ferilli interpreta la madre di una bambina che si ammala di leucemia a causa dei veleni che provengono da un'acciaieria. Ed ora parliamo di sanità lucana. 8,6 milioni di euro tramite assegni di cura e voucher a sostegno di anziani non autosufficienti e di persone con disabilità. La misura è stata approvata dall'Aggiunta Bardi su proposta dell'assessore alla salute. Assegni di cura e voucher sono le forme tramite le quali è possibile concretizzare la misura in sostegno di anziani non autosufficienti e di persone con disabilità. Si tratta di una misura approvata dall'Aggiunta Bardi su proposta dell'assessore alla salute e politiche per la persona e PNRR Cosimo Latronico. Nello specifico, l'impiego della quota assegnata alla regione Basilicata è pari a complessivi 8,6 milioni di euro. Dunque saranno così riconosciuti assegni di cura e voucher del valore variabile tra 300 e 500 euro erogabili per una durata di 12 mesi, prorogabili salvo la verifica di disponibilità finanziaria da parte dell'ambito socio-territoriale che ne costituisce il soggetto attuatore. Noi stiamo predisponendo un programma di più di 8 milioni di euro per sostenere i bisogni delle persone fragili a cominciare dagli anziani, sia con un sostegno economico ma prevalentemente attraverso strumenti, istituzioni che daranno servizi diretti e indiretti alle persone che hanno queste problematiche e alle loro famiglie. Si porta avanti un progetto di rafforzamento delle politiche sociali con l'obiettivo di costruire una rete sempre più caratterizzata da politiche a sostegno del benessere delle persone e ovviamente partendo dai più fragili. Una risposta seria e concreta per i più fragili che vuole anche valorizzare la figura del caregiver. Si, è una risposta per chi è più fragile e costruire anche un mondo nuovo di professioni per la cura delle persone che è una prospettiva di lavoro anche interessante per i giovani. Aneddoti, successi e sfide affrontate sul campo e fuori. A Matera la presentazione del libro Istinto Puro a cura di Sebastian Frey, celebre ex portiere di calcio che ha difeso le porte anche di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa. Un'opera che va oltre il racconto sportivo permettendo di esplorare la vita e le esperienze di uno dei più talentuosi portieri degli ultimi decenni. Sabato 9 novembre la città dei Sassi ha accolto la presentazione del libro Istinto Puro a cura di Sebastian Frey, celebre ex portiere di calcio che ha difeso le porte di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa. Un evento dedicato ai fan dell'estremo difensore e in generale agli appassionati di sport per un volume che ha visto anche la collaborazione di Federico Calabrese. Frey ha ripercorso così la sua carriera e il cammino umano e professionale che l'hanno reso una figura iconica nel panorama calcistico internazionale. Dunque l'evento organizzato dall'associazione Innoviamo in collaborazione con l'associazione Aspi ha consentito al pubblico presente di ascoltare direttamente dalla voce dell'ex calciatore aneddoti, successi e sfide affrontate sul campo e fuori. Abbiamo deciso insieme a Federico Calabrese di raccontare la mia storia durante il Covid, ci è venuta questa idea. È un racconto abbastanza ampio, un'autobiografia completa dalla nascita a oggi, ovviamente il nucleo del libro e la parte calcistica che è una parte che per i tifosi sicuramente sarà qualcosa di interessante. E ho cercato di raccontarmi il più sincero possibile e attraverso tanti aneddoti, momenti belli, momenti magari un po' meno belli. Momenti belli sono quasi tutti i momenti che ho vissuto nel mondo del calcio, è stato quasi 20 anni di carriera emozionante, ho scoperto tante amicizie importanti, tanti campioni, scopro nel 98 la Serie A, probabilmente una delle più belle Serie A di sempre e quindi questo è stato molto importante, molto bello, una storia molto bella. Ovviamente i momenti meno belli sono gli infortuni che il primo mi fa saltare il Mondiale nel 2006 e ce n'è un altro poi nel 2010, insomma tutto questo in un racconto molto ampio, poi c'è l'infanzia, l'adolescenza e poi il post carriera per arrivare oggi da voi. Un omaggio alla Parigi meno conosciuta. Proseguono gli appuntamenti della Rassegna Internazionale di Arte Visiva Matera, l'Arte che Unisce, con la presentazione del libro Live in Paris di Michele Di Donato. Un invito a riscoprire la bellezza nascosta nella quotidianità, attraverso una prospettiva autentica e intima. Con un viaggio visivo nel cuore pulsante di Parigi, proseguono gli appuntamenti della Rassegna Internazionale di Arte Visiva Matera, l'Arte che Unisce, in programma fino al 2 dicembre 2024. Infatti nel pomeriggio di sabato 9 novembre è stato presentato il libro Live in Paris di Michele Di Donato, fotografo professionista il quale ha dialogato con Anna Maria De Marzo, docente di storia della fotografia presso Spazio Tempo. Abbandonando i cliché turistici, l'autore presenta le vie nascoste della capitale francese. Ogni fotografia cattura l'essenza della vita quotidiana parigina, dove le storie personali, le emozioni e i sogni si intrecciano in un affresco di umanità vibrante. Dunque il libro vuole essere un omaggio alla Parigi meno conosciuta, dove ogni angolo racconta una storia. Live in Paris nasce dal mio amore per la città di Parigi. Io sono cresciuto con la letteratura francese e ho sempre avuto in animo di fare qualcosa su Parigi. Ora, io non sono uno scrittore, mi esprimo con la macchina fotografica, per cui l'unica cosa che potevo fare era fare un libro su Parigi. Questo non è il mio primo libro, perché viene dopo una serie di altri, ma è quello che mi ha permesso di raccontare davvero il ventre della città. Cioè io non ho fotografato i posti iconici di Parigi, quindi la Tour Eiffel, o anche le cose iconiche come la Baguette. Io ho cercato di utilizzare il paesaggio come una lente per raccontare quello che sono i parigini in realtà, quindi non i turisti. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.